Allora, di nuovo qui a guardare questo grafico di Bitcoin che in realtà non è che si stia muovendo particolarmente o comunque più del previsto, abbiamo ancora questa mega super fase laterale, chiamiamola così, che va in sostanza da quasi un paio di mesi a fare un su e giù in questo range di prezzo senza in realtà romperlo mai. Cosa vedo però? Vedo che mentre ai livelli bassi di questo range, nelle precedenti volte in cui lo abbiamo toccato, guardate, prendo un altro strumento, prendo il cerchio quindi, parte bassa, vedete tutte queste parti basse, il prezzo è stato ricomprato più volte, come questa volta, questa volta. In questa situazione però non è stata ricomprata la parte bassa del range, ovvero che cosa fanno i trader? Una volta individuato il range si compra sulla parte bassa e si sciorta sulla parte alta, fermi, fermi. E' molto semplificata questa cosa che vi ho detto io, in realtà è leggermente più complicata, leggermente diversa da spiegare, ma la semplifico il più possibile. Questi, in questa parte di range che vediamo, questa parte bassa del range, questa volta non c'è stata la forza per riacquistare, va bene? Queste zone, credo sia abbastanza evidente se noi andiamo a vedere, no? Vedete? Queste zone non è stata ricomprata. I massimi che sta facendo sono dei massimi decrescenti, che è la stessa identica cosa che vi avevo detto l'ultima volta, ok? Adesso lo faccio più grande in modo tale da farlo vedere meglio, ma credo sia abbastanza evidente che questa sia una decrescita dei massimi. Anche questo non è un fattore che a me piaccia moltissimo e mi andava di farvelo vedere, ok? Semplicissimo. Abbiamo adesso questo canale a ribasso toccato qui, in questa zona qui, e toccato quasi in questa zona qui, ok? E abbiamo, io ho messo una possibile inversione, tanti dicono adesso inverte dai 27, siamo riusciti a recuperare, vedete qui questa linea viola, sono i 27. Adesso ingrandisco un po' e togliamo questo range perché vi ho spiegato che per me è ancora una fase di distribuzione, dove la parte bassa del range non sta venendo ricomprata. Questo canale che vi ho disegnato, ok? Un attimo, eh? E volevo farvelo vedere meglio, nel miglior modo possibile. Allora, questa parte, questa linea che avevo tirato, sono i 27k che avevamo rotto e abbiamo recuperato. Io avevo ipotizzato uno short ben più pesante, che in realtà non c'è stato, almeno con l'intensità che mi aspettavo, ma questo non vuol dire che la mia visione sia stravolta. Questo vuol dire che in questa fase di mercato sono molto prudente, l'ho spiegato e l'ho detto più volte, i miei dati dicono che questa bassa volatilità, anche negli indici azionari, non mi piace, ok? È una volatilità che mi sembra, tra virgolette, essendo molto compressa, è una volatilità che mi sembra forse tenuta anche a galla. Cioè, quindi, nella parte bassa si ricompra, ma solo per tenere un po' a galla il mercato, per non farlo scendere in maniera repentina. Queste zone, queste zone da questo canale, come vedete, potremmo rompere a rialzo e vi spiego perché potremmo rompere a rialzo, perché guardate questa zona qui, questa zona, questa zona qui, è una zona di liquidità. Ci sono degli ordini che potrebbero essere presi. Non mi meraviglierei un ritorno in questa zona proprio a prendere la liquidità. È un'ipotesi remota? Non troppo. È un'ipotesi dove io mi aspetto, se dovessimo tornare in questa zona dei 28 e 8, 29, ci arriveremo solo ed esclusivamente per prendere la liquidità, non per un cambio trend. Ci siamo questa zona e poi, secondo me, potrebbe essere rotta a ribasso, ritornando in questo canale che vi ho disegnato. Ok? Non escludo però questa possibilità che ci sia. Secondo me però la visione rimane assolutamente ribassista. Ho provato a tracciare, come ho fatto precedentemente per questo canale, ho provato a tracciare questo canale. Quindi se dovessimo rompere a rialzo questa zona qui, questa trendline che vedete qui, se dovessimo romperla a rialzo, potrebbe dar vita ad una nuova fase rialzista. Fase rialzista che ho disegnato con questo canale rialzista. Andremo su questo canale rialzista? Per quanto mi riguarda, secondo il mio modo di operare, no. Perché i miei dati macro, la situazione macro, questa bassa volatilità, secondo me non sta facendo guadagnare chi deve guadagnare e di conseguenza, secondo me, avrà breve durata. Possiamo disegnare questa zona anche come una zona ben più bassa, come vedete. Io prendo come riferimento questa zona qui, questa trendline dinamica, e potrebbe essere disegnata in questo modo. Potrebbe addirittura essere disegnata in questo modo. Io questo non lo so, lo vedrò mano a mano con il tempo e la disegneremo e ce ne occuperemo, come abbiamo fatto con questa trendline. Questo è soltanto un esempio. Come vedete, io adesso la metto come se questo minimo, questo minimo che abbiamo toccato qui, fosse la parte bassa di questo canale e mi muoverò di conseguenza. Non valuterò long sotto ai 28,8, va bene? Vedete questa zona dove è scritto POC, vedete questa zona dove è 28,8, fino a che non romperemo i 28,8 per quanto mi riguarda. non se ne parlerà nemmeno di valutarlo il long. Non ho detto che entrerò long dai 28 in su, ho detto che comincerò a valutarlo eventualmente se romperemo questa zona. Altrimenti la mia visione è short. Non ho detto che arriveremo a 12, ma la mia visione è short. dove potrebbero essere dei target a ribasso. Io ve li ho indicati con un post su Telegram. Il primo target a ribasso potrebbe essere quello dei 25,24. Molto secondo me più probabile quello dei 24, che siamo da dove ci troviamo ora, più o meno a un meno 10. Eccolo, un meno 10%. Percentuale che Bitcoin potrebbe fare tranquillamente, ha fatto più volte, potrebbe testare tranquillamente questa zona qui. E stando questa zona qui, nei prossimi giorni, anche per arrivare al fine settimana, andremo in sostanza a ritestare la parte centrale di questo canale che abbiamo disegnato e di conseguenza dovremmo ulteriormente aspettare un eventuale long, quindi un eventuale fase laterale per aspettarci un long. La spiego con una linea. Cioè, sì, mi aspetto che torniamo magari in queste zone, lateralizziamo un pro, presa di liquidità, ok? Cioè, io mi aspetto qualcosa del genere, mitigazione, e poi ripartiamo. Io mi aspetto questo per andare long. Di conseguenza, muoversi prima di una schematica long, secondo me, quindi con un ordine pendente a messo non so dove, è rischioso per il momento ordine pendente. Che cosa vuol dire? Che voi mettete un ordine a, faccio un esempio, 2200, quando tocca i 2200 voi entrate long e andate a prendervi il rimbalzo. È molto difficile perché, in sostanza, è come prendere il famosissimo coltello che cade. Sono d'accordo con questa operatività, ni, perché c'è chi la fa e c'è chi non la fa. Queste sono valutazioni che dovete fare voi. A me non interessa perché io non opero, almeno in questa fase di mercato, non opero così. Detto questo, io credo di aver detto tutto. Se avete delle domande da farmi, ci sono i commenti qui sotto, scrivetemi in privato su Telegram. Io cercherò, nei limiti del possibile, delle mie capacità, ricordandovi che le mie sono semplici opinioni perché io non sono un trader pro di quello che vende robe perché vi voglio insegnare. No, io non voglio insegnare a nessuno. Io vi dico quello che penso e come, secondo me, si muoverà il mercato per i miei dati. I dati che raccolgo io, giusti o sbagliati, però io opero così e quindi questo è il punto. Voglio aspettare i dati. Io aspetterò dei dati, mi aspetterò in questa fase dove ci troviamo. Ora aspetterò un attimo fine settimana e vedremo il fine settimana, da qui al fine settimana, se ci sarà un'impulsività, l'impulsività che mi aspettavo, in sostanza, nei primi giorni di questa settimana. Quindi lunedì, martedì, mercoledì. Siamo all'inizio settimana, ma in sostanza ancora non si è verificato niente. Quindi per il momento la mia simulazione è assolutamente non corretta. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e grazie per... Grazie se siete arrivati fino a qui, siete fuori di testa perché ho parlato, ho fatto un monologo di dieci minuti, ma sono molto contento. Se avete apprezzato questo video, mettetemi un like, iscrivetevi, fate quello che vi pare. Ci vediamo presto. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!